Palla arrivare a Vertoni, solissimo, grande volata, evitato Zaninelli in disperato uscita e la palla in ritorno. Ehi 2 a 0 per questa falla arrivare a Vertoni, solissimo, grande volata, evitato Zaninelli in disperato uscita e la palla in ritorno. Ehi 2 a 0 per questa Fiorentina, un passivo pesante per quanto invece aveva mostrato finora il Cladanzaro, ma pace negli spogliatori, non farà drammi. Questa volta la Nimitz, targata Firenze, definizione di Beppe Viola, ha colpito.